il treno regionale 46 51 di treno nord proveniente da vercelli e diretto a pavia delle ore 5 e 44 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a tromello garlasco gropello cairoli villanova d'ardenghi cava carbonara il treno regionale 10 3 1 2 di tre nord proveniente da pavia e diretto a mortara delle ore 6 e 14 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla non sono previste fermate intermedie il treno regionale 46 52 di tre nord proveniente da pavia e diretto a vercelli delle ore 7 e 14 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a mortara nicorvo robbio palestro il treno regionale 46 75 di tre nord proveniente da mortara e diretto a pavia delle ore 14 e 44 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a tromello garlasco gropello cairoli villanova d'ardenghi cava carbonara